A pochi giorni dal momento tanto atteso la riapertura, gli imprenditori dello sport che hanno potuto rialzare le serrande ospitando gli appassionati di fitness tracciano un primo bilancio. È un po' così prematuro tracciare un bilancio, però percepisco un grande entusiasmo perché le persone hanno la necessità di riprendere in mano ciò che appartiene loro, quindi innanzitutto la libertà e sicuramente in questo c'è in maniera proprio importante la sensazione di fare sport. Nulla li ferma nonostante siano cambiati gli scenari e servirà un po' di tempo per ritrovare gli equilibri precedenti, dalle igienizzazioni agli strumenti, alla misurazione della temperatura all'ingresso, agli spogliatoi per cambiarsi con persone contingentate, alle docce proibite. Non una ripartenza piena insomma, ma la voglia c'è nonostante l'estate rappresenti il periodo di calo fisiologico per questo tipo di attività. Si parte direi in seconda perché almeno nella mia realtà ho visto un buon coinvolgimento della gente del quartiere, sono molto interessati a riprendere in mano la loro situazione sportiva e di conseguenza la macchina è partita piano piano in seconda, non certo in quarta, però è auspicabile che si vada nella direzione... Anche se sta arrivando l'estate? Sì, 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 proprio perché la gente secondo il mio punto di vista è stanca di stare a casa, stanca di una situazione che li ha coinvolti in maniera pesante.